La gioiella Prisma conquista una vittoria importante contro la Juasa Battery Grotta Zolina, chiudendo il match con un punteggio di 3-1. Davanti a oltre mille tifosi, i padroni di casa hanno dominato il primo set, ma gli avversari hanno risposto nel secondo. Con Gironi nominato MVP con 25 punti e Derra 17, Taranto ha ripreso il controllo chiudendo la partita con un finale emozionante. I rosso-blu si aggiudicano tre punti preziosissimi in classifica, pronti per il prossimo match a Monza. Era una partita importantissima, sia per il nostro morale, sia per il morale del pubblico, era una nostra diretta concorrente. Come sempre abbiamo approcciato la gara fin da subito alla grande, fatto il primo set non c'è stata storia. Dobbiamo continuare a lavorare magari a tenere l'intensità alta, a essere costanti perché abbiamo ancora un po' di alti e bassi. Il secondo set abbiamo sofferto tanto, abbiamo sofferto tanto ma siamo stati bravi che li abbiamo recuperati nel finale. Peccato che l'abbiamo perso e siamo stati bravi di più rispetto alle altre partite nel terzo e nel quarto set. Perché comunque anche partendo sotto, essendo sotto, alla fine siamo riusciti a fare qualcosa in più che magari non abbiamo fatto nelle partite contro Padova e Piacenza.